Andiamo a aprire i premi miei del merda va Cosa più importante al volo proprio? Martim of the week Chi cazzo c'è? Guarda ti dico l'unico umano che mi piacerebbe trovare forse potrebbe essere Oblak Mezzumano Oblacco Dai Oblak, Oblak se stappa lo champagne Oblak se stappa lo champagne Vabbè C'ha 11 di meno di rating ma in porta c'eravamo Ma questo ancora campa Ma diamanti nel 2021 C'è diamanti ancora vive nel 2021 Allora St'altro mega pacchetto Ma esistono i walkout su sto account? Altro mega pacchetto raro Bello Mi riempono di gioia questi pacchi Schippa Allora questi sono quelli scambiabili Tranne l'ultimate Dai te prego dammi un walkout Uno Uno Oh Lewandowski non poteva essere sicuro perché era if Vabbè dai dai Vabbè dai dai Non me lamento Pacchetto ultimate Dai Adesso mi darà un giocatore quello del coso Del Sud America No Porco voglio dammelo cdc che me levo un golo Dammelo cdc che me levo un golo dalla squadra Golo non scambiabile Era un bacio sulla cappella Vaffanculo Me so cagato nelle mutande Per un attimo ho pensato che magari Il gioco potesse far Dammi la sculata della vita Almeno ci ha regalato un brivido dai Oh ma sto cazzo di cane oggi che c'ha il pepa al culo Campbell non è così male in realtà Eh 750 bombole Vabbè manco Vabbè Campbell non fa così schifo Oh walkout Un miraggio Germania cdc Kimmich Oh è walkout Zitti Eh Gosens Vabbè Blanca è simpatico Oh walkout Chi è sto miraggio Mamma mia Come riaprono tutte le regioni Voglio venire proprio a Napoli Sì Oh il polpo Eif Polonia Godin Vabbè Godin Un altro 86 Te lo butti dentro una sfida E sotto chi ce sta E sotto un bel ziuu Vabbè Vabbè sì Godin Sergio Bruschetta Fabinho Quattro walkout Più Rashford Ok Una brasiliana L'abbiamo trovata Somse Scordi di me Che schifo Mi viene da vomitare Vabbè Vabbè io l'abbro così Oh walkout È un miraggio Obama e Young Un altro walkout E che è successo Bobby Un altro walkout Dai Sarà un altro 84 Fake Che figli di zoccola Dai Poraccio A sto ragazzo Ma che è Nava Se non ci fanno un cazzo Viola Sarà un Fake walkout No 90 terzegen Desti tempi In giocatore 90 Mezzo Cana hit Anno Perfetto Così Non Perfetto Anno Arnold Cioè tipo Arnold Te costa tipo 50.000 Capito? Come l'Inter Ma come walkout Ma sì ma questo Ti sto a trovare solo walkout Ma che buco di culo Ma un altro walkout È un if Per Pepe Oh Ma che buco di culo questo È incredibile signori So così So quegli account So quegli account Che ci stanno E bisogna convive Vabbè costa solo 600k Smoldini Bobby, Bernardo, Sommer Sette doppioni Vabbè Ciao Io prenderei Koeman Ok Caruce Serorf Medium E KK Prime GG 2 milioni 2 milioni e 2 d'Armando Bello Gabus Sì sì L'apro Non me ne frega il cazzo Dell'attacco Mi sono rotti i coglioni Oh Oh Allora Stonks Stonks Perché c'ho Altra roba Per il contenuto I wanna be Forever young Scartami di tutti Porco Dio No 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 Ma è costato di fatica Te lo recuperi Ah sì ma te sei fatto Ah sì Non me funziona La web app Tu stai fuori di testa Io metto a vendere un vabbè Me lo compro 2 milioni Adesso eh Io me sono mutato Nel dubbio Sì sì